No, ho sbagliato. Apri il contenitore delle gel. Versa un pochino di gel sulle tue mani. Sì, bravo! Non ho sbagliato. Sfrega, palmo contro palmo. Sì, bravo! Non ho sbagliato. Sfrega, palmo contro dorso e intreccia le dita. Sì, bravo! Non ho sbagliato. Non dimenticare di lavare i pollici. Sì, bravo! Non ho sbagliato. Frizione le dita e pulisci le unghie contro i palmi. Ecco che avrai igienizzato accuratamente le tue mani